La prospero torretas è una fabbrica degli spinosa che produce potenti torrette robotizzate e cannoni difensivi. Se prendiamo quella fabbrica, taglieremo le forniture alla mano nera. Stanno usando alcuni di quei caratteri. Se ci pensi ha senso, non ti pare? Roger, intruso in zona. Tutte le unità all'attacco. Trova e spegni gli interruttori dei cannoni difensivi. Dovresti disattivarli così. Una volta disattivati... Un cannone è stato disattivato. Attenzione! Cazzo, è veloce! Cazzo, è veloce! Sì, 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 sì. Sì, non so, non so, non so, non so, non so. Sì, non so, non so, non so. Sì, non so, non so, non so. Sì, non so, non so, non so. Tutte le unità in posizione. Sì, non so, non so. Sì, arrivo. Sto arrivando. Devono pagare dal primo all'ultimo. Torno indietro. Salve, Rodriguez. È un piacere lavorare con te. Altrettanto. Allora, nella fabbrica ci sono tre centri di controllo. Portami in tutti e tre e io riprogrammerò le torrette. Ok. Dite le vostre preghiere! Nemico nell'area operativa. Ora sei mio! Ok, ci siamo. Ci penso io. Nemico sui tempi con il torretto. Pronti all'azione. Ok, ci sono. Questione di pochi minuti. Capro io. A tutte le unità. Intrusione del sistema. Eliminate il colpevole. Ehm, Rodriguez. Continua. È il momento! Ehm, Rodriguez. Ehm, Rodriguez. Fatto. Ora le torrette in quest'area sono nostre. Ne mancano solo due, ma serve un veicolo. Non c'è un veicolo. Ecco, c'è un'altra console proprio qui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501